Che oggi approfittiamo anche per dare una notizia all'Italia che a me riempie d'orgoglio come Ministro dello Sviluppo Economico e cioè che come Governo abbiamo nominato, individuato il Maestro Lino Banfi e andrà a rappresentare l'Italia nella Commissione Italiana per l'UNESCO cioè abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'UNESCO Che vi devo dire, con questo il Ministro ha chiarito, ha chiarificato perché giustamente i giornalisti prima dicono ma tu che ci fai qua, ma tu che ci fai qua Io la prima volta mi sono inventato per salutare il Presidente del Consiglio, dico per tre motivi perché è corregionare mio, è romanista come me ed è il Presidente del Consiglio io sono cittadino italiano, ho parlato di cittadinanza ma io non centro, ho detto mi hanno investito in un incarico il Ministro stamattina mi ha voluto vedere dei beni culturali e io dico che centro io con la cultura poi ho scoperto, questa carica è bellissima perché di solito in questi casi l'UNESCO credo che le commissioni fino adesso si siano fatte con persone che sono plurilaureate in questo e in quell'altro conoscono bene la geografia, i posti, i siti, gli ipogei, tutte queste cose che io non so io voglio portare solo un sorriso dovunque, in qualunque modo, anche nei posti più seri è il giorno del mio compleanno, a luglio me lo vedi presentare all'orecchietteria, posso dirlo con un mazzetto di fiori, come un raghezzo, mi ha fatto una tenerezza perché come età può essere mio nipote lui anche se, io gliel'ho detto, quando parla da solo ha 32 anni, quando parla con Salvini e con il Presidente del Consiglio insieme improvvisamente ce ne ha 55, non ho capito com'è che evo lo fa allora gli ho detto, se questa investitura che il Ministro mi ha fatto stamattina la fai diventare ufficiale io posso ufficializzare anche la mia presenza qui del perché mi trovo qui perché la cosa bella di questo signore, che io mi ricorderò sempre è che mi disse, non me ne frega niente per chi voti, Banfi io ti devo questo tributo perché sei Lino Banfi, io ti adoro e fai ridere tre generazioni, questo mi è rimasto impresso grazie